Meditazione, il giro della ruota In sascrito la parola chakra significa ruota. Prima di iniziare la sequenza meditativa, scegliete il chakra con il quale vi piacerebbe lavorare. Prendete nota del suo colore e della parte del corpo ad esso associata. Mettetevi comodi, con gli occhi chiusi. Respirate con facilità. Fate respiri lenti ma profondi. Scegliete la posizione per voi più comoda o seduti con la schiena dritta e i piedi paralleli. Appoggiate a terra o sdraiati su tutto il vostro peso. Muovetevi leggermente per mettervi più comodi. Respirate lentamente e profondamente. Allontanate un'intenzione. Ispirate aria fresca, pulita. Fate rientrare dal naso e riempite la testa facendola scendere quest'aria giù. e infine i vostri piedi. Fate tre secondi di apnea e buttate fuori un'aria piena di tensioni, di paure. Portate fuori tutte le vostre preoccupazioni. Inspirate ed espirate. A ogni respiro siete sempre più sereni, più tranquilli. state allontanando ogni tensione. Adesso portate la vostra attenzione sulla parte del vostro corpo in cui è situato il chakra che avete scelto di stimolare. Immaginate che in quel punto ci sia una ruota che inizia a girare. lasciate che la ruota giri sempre più forte e che girando inizia ad irradiare il colore associato al chakra scelto. Concentratevi sul colore del chakra lasciate che l'intensità del colore sia sempre più forte fino a irradiarsi fuori di voi in tutte le direzioni. inizia a girare. Fate rallentare i giri della ruota e l'intensità del colore diminuisce. La ruota gira sempre più piano, fino a quando si ferma il colore si spegne. Meditate sul vostro stato d'animo e osservate tutti i pensieri o le immagini che crescono in voli. Grazie. 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 state meditando. Rimanete completamente rilassati ed aprite gli occhi. Ricordatevi sempre che la meditazione deve essere innanzitutto un'esperienza piacevole. Se vi capita di sentirvi a disagio con una meditazione in particolare, non abbiate timore a smettere in qualsiasi momento, aprendo semplicemente gli occhi.